Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Aperto in compagnia di Antonella Intranò e Ugo Lombardi Salutiamo la regia centrale Rosario Moreno da Treviso Ciao Rosario, ben trovato Buonasera a tutti quanti cari amici, buonasera Un saluto anche al nostro assistente alla regia Ugo, ben trovato anche a te Ugo Ciao Ugo Risponderà Eccolo Salutiamo il responsabile di Pianeta Oggi TV.net Massimo Bonella al quale tra brevissimo passeremo la linea per le prime news del pomeriggio Bentrovato Massimo Buonasera Massimo Buongiorno a voi Bene, salutiamo naturalmente il nostro ospite il dottor François Dumont il direttore della comunicazione di Medici Senza Frontiere Buonasera dottor Dumont e grazie per aver accettato il nostro invito Buonasera Buonasera a voi, grazie Bene, a brevissimo torneremo a discutere con lei di quelli che sono gli attacchi che vengono sferrati ormai in maniera sempre più frequente e sempre più aggressiva contro i presidi sanitari da voi sostenuti o da voi diretti da Medici Senza Frontiere intendo Per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per le news del pomeriggio immediatamente dopo a Rosario per i saluti al nostro network e poi torneremo in diretta con lei dottor Dumont Prego Massimo Sì, grazie Antone la Intranò Prendiamo la linea qui dalla redazione di Venezia attestata giornalistica pianeta oggi TV Radio Favaro Veneto Non Stop News Alle 18.41 brevemente dunque c'è una notizia in primo piano il tritolo sequestrato nel Barese qualche giorno fa doveva essere usato dalla Camorra per uccidere il procuratore di Napoli Giovanni Colangelo e quanto ha rivelato un collaboratore di giustizia vicino alla Sacra Corona Unita originario nel Napoletano L'esplosivo detale era nascosto sotto un albero di fronte al cancello della tenuta di un boss di Gioia del Colle, provincia di Bari secondo le dichiarazioni del pentito l'attentato sarebbe dovuto avvenire proprio a Gioia del Colle dove il campo della procura napoletana abita continuerò a fare il mio lavoro a servizio dello Stato fin quando mi sarà richiesto ha detto Colangelo Dalle indagini sulle escort portate da Tarantini alle cene di Silvio Berlusconi emergono le abitudini di vita i reprensibili costumi extra istituzionali dell'ex premier si legge nella sentenza del processo escort che parla di cene poco eleganti organizzate nelle residenze dell'ex cavaliere beneficiando della costante e imprescindibile presenza di avvenimenti provocanti disinvolte, spregiudicate, disinibite soprattutto giovanissime donne pronte a alietare le serate e a appagare la libidine dell'ex premier ricordiamo che l'Italia è in mano a questi personaggi dunque la gente prima di votare dovrebbe veramente pensare andiamo avanti abbiamo ancora una notizia a Cagliari marito e moglie 67 anni lui scusate 67 anni lui e 62 lei sono stati trovati morti nella loro casa a Settimo San Pietro nel Cagliaritano forse uccisi durante una rapina entrambi i corpi hanno ferite inferte con armi da taglio e bastoni o mazze ancora ignota la data della morte a scoprire il duplice delitto è stato il fratello della donna che non vedeva la sorella e cognato da un paio di giorni ed è andato a cercarli a casa si cercano i due figli adottivi della coppia una 28enne e un 24enne entrambi bielorussi dunque brevemente vi segnalo solamente un video che lo trovate a taglio primo della nostra testata online allnewse pianetaoggtv.net dunque ricordiamo i 40 anni del terremoto disastroso del frio di Venezia Giulia era il 6 maggio 1976 c'è un filmato dell'epoca le drammatiche sequenze del terremoto è praticamente costituito in tre parti poi a seguire ci sono altre informazioni tra cui uno speciale molto importante anche questo qui che riguarda Chernobyl 30 anni dopo è tutto per il momento del 1845 restituisco la linea da Venezia a Bari a voi grazie Massimo la riparsiamo a Rosario per i saluti al nostro network prego Rosario bene grazie Antonella un saluto a tutti quanti voi all'ospite di questa sera e saluto il condominio di Radio Science Network basta così volevo solo ricordare a tutti quanti che è presente una chat sui nostri siti potete utilizzare quella per le vostre domande oppure telefonarci allo 0422 16 26 622 è aperta anche la linea sul cellulare per quanto riguarda gli sms e messaggi audio con whatsapp chiamandolo 393 78 80 195 vi ricordo che siamo a Rete Unificate quindi su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso Radio Isso di Modena Radio Val di Chiana e ovviamente insomma siamo sulla web tv su due canali standard di Radio Science sul sito e presenti anche su Ustream Vogue Live e sul nostro canale YouTube con questo è tutto ti ripasso la linea grazie Rosario per le precisazioni dunque il nostro ospite il dottor François Dumont il direttore della comunicazione di medici senza frontiere è qui con noi questa sera per discutere di un argomento molto molto delicato partiamo dalla ultima notizia ricevuta solo in ordine cronologico l'attacco del 27 aprile all'ospedale di Aleppo al Quds dove sono decedute 50 persone tutti civili e purtroppo l'unico medico pediatra della zona questo era un ospedale dottor Dumont da voi sostenuto cosa ci può dire di questo evento davvero tragico? Sì infatti possiamo dire che è stato un bombardamento assassino questo bombardamento all'ospedale di Alcuz a Aleppo come l'ha detto più di 55 persone sono morte fra pazienti anche staff medico e infatti anche l'ultimo pediatra è rimasto nella città di Aleppo e quest'attacco purtroppo è l'ultimo di una serie di una vera epidemia direi di attacche che noi come organizzazione medica umanitaria lavorando tanto nei conflitti nel mondo vediamo questi ultimi mesi nel solo 2015 ci sono stati più di 100 bombardamenti o attacchi su un totale di 75 ospedali di medici senza frontiera o supportati da noi in vari paesi parlo della Siria ovviamente ma anche di Afghanistan avete sentito il bombardamento anche a ottobre scorso dell'ospedale di Kunduz ma anche l'Ucraina Sudan Sud Sudan e diversi paesi come anche l'Yemen e quindi questo è solo l'attacco dei strutturi sanitario è solo una punta dell'iceberg e della brutalità che vediamo perché anche i civili le scuole i mercati vengano bombardati a volte mirati e questo riflette una mancanza di rispetto totale delle popolazioni civili nei conflitti di oggi purtroppo Dottor Neumont giusto perché possa essere ricordato ai nostri ascoltatori vogliamo un attimo parlare di quelle che sono le attività di Medici Senza Frontiere quali sono i fronti sui quali siete impegnati e qual è diciamo la situazione mondiale in questo momento perché sappiamo che ci sono conflitti praticamente in ogni angolo della terra Sì infatti noi siamo confrontati a una moltiplicazione di crisi diciamo di conflitti di situazioni di instabilità di situazioni che hanno spinto più di 60 milioni di persone nel mondo a fuggire a essere costretta a prendere il via a mettersi in viaggio e questa è una crisi una delle sfide umanitarie più urgenti è una crisi che senza precedente dà la seconda guerra mondiale e per questo noi abbiamo deciso di lanciare una campagna che si chiama Milioni di passi che è una campagna propria su queste persone che sono costrette a fare milioni di passi per fuggire perché per noi è diventato veramente un ambito soprattutto in conflitti di una sfida umanitaria alla quale rispondiamo e ovviamente recentemente questo è legato anche a crisi umanitarie che vediamo in Europa o anche nel Mediterraneo sulla strada dell'Europa perché questa crisi provocata tra l'altro dalle politiche europee che sono politiche di muri di confini chiusi e di filo spinato è diventata una sfida umanitaria sempre crescente che ci ha spinti a intervenire anche sempre di più in Europa Medici Senza Frontiere è presente con il suo supporto sanitario in quanti paesi in questo momento? Parliamo di circa 60 65 paesi ovviamente ci sono dei progetti che chiudono e che aprono e rispondiamo sempre alle emergenze quindi questo è variabile ma più di 60 paesi Dunque Dottor Biumon lei ricordava come noi del resto l'ultimo attacco subito da un ospedale da voi sostenuto ad Aleppo il 27 di aprile ultimo scorso ma ce n'è stato un altro a Conduzzi in Afghanistan il 3 ottobre del 2015 ora in tutti i casi voi naturalmente avete chiesto che fosse fatta chiarezza sulla responsabilità di questi bombardamenti e soprattutto sulle ragioni il vostro presidente il presidente internazionale di Medici Senza Frontiere ha presentato ha fatto un discorso molto chiaro il 3 maggio 2016 presso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU cosa è stato chiesto di preciso e quali sono state le risposte che avete avuto? 6 ne avete avuto sì il primo passo concreto che è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 3 maggio ha votato una risoluzione che deve proteggere o chiede la protezione rispetto delle strutture sanitarie dei civili e del personale sanitario nei conflitti purtroppo questo è solo una risoluzione quindi è stato votato all'unanimità dalle potenze i paesi più potenti nel mondo però adesso si deve trasformare in azioni e quindi questo dovremo vedere se veramente c'è un rispetto se gli attacchi si fermano davvero sul campo questo non l'abbiamo ancora visto noi all'occasione di questo discorso che abbiamo fatto al Consiglio di Sicurezza abbiamo anche lanciato l'azione Not a Target per spiegare e chiedere che in ospedale i civili non siano un bersaglio purtroppo come dicevo ci sono tanti attacchi non solo in Siria non solo in Afghanistan una vera epidemia di attacchi e per questo con quest'azione Not a Target chiediamo che il diritto internazionale umanitario le regole della guerra il rispetto dei civili in realtà siano applicati ma anche che sia garantita anche il fatto che l'etica medica come organizzazione medicale abbiamo il dovere di portare assistenza fornire assistenza a tutti a tutte le persone a prescindere da parte del conflitto alla quale appartengono ma anche i combattenti i combattenti che sono feriti diventano pazienti e questo è molto importante e deve essere riconosciuto e poi nel caso come citava anche il caso del bombardamento dell'ospedale di Kunduz ma nel caso di tutti gli bombardamenti chiediamo anche che delle investigazioni indipendenti investigazioni anche imparziali vengano avviate nel caso di Kunduz l'esercito americano ha riconosciuto aver bombardato e ucciso più di 40 persone il 3 ottobre 2015 a Kunduz ma per tutto non hanno consentito all'agio di un'investigazione indipendente l'unica cosa che hanno fatto hanno fatto la loro propria indagine interna all'interno dell'esercito americano hanno sospeso hanno fatto un paio di sanzioni disciplinari per il personale dell'esercito ma non c'è stata un'investigazione davvero indipendente Dottor Dumont come vengono giustificati questi attacchi su obiettivi come appunto gli ospedali i mercati la guerra è assurda questo lo sappiamo non ha mai risolto nulla e credo non risolverà mai nulla ma come è possibile che vengano effettuati attacchi su presidi sanitari che dovrebbero essere liberi dalle illogicità dei conflitti voglio dire come come vengono giustificati questi bombardamenti come errori in realtà spesso spesso sono semplicemente taciuti quindi non se ne parla e il fatto che ci sia medici senza frontiere presente sul campo fa che un po' se ne parla perché noi continueremo a denunciare a parlarne non rimarremo silenziosi su questo ma quando vengono riportate vengono sono descritte come errori e anzi non sono non basta descriverli come errori in realtà rappresentano attacchi massicci spesso indiscriminati a volte mirati comunque sproporzionati contro i civili quando ci sono le bombe che cadono sul mercato ovviamente non è un obiettivo militare questo è inaccettabile nel peggiore dei casi sono atti di terrorismo diremo quindi è inaccettabile e per questo chiediamo che siano implementati dei meccanismi di investigazione perché questi attacchi non non siano più o taciuti o comunque dimenticati come semplici errori Dottore Dumion voi siete in grado di dire chi bombarda e perché bombarda cioè identificare chi bombarda al di là degli atti terroristici secondo voi è facile? No non è facile e non solo non è facile ma non è anche nella nostra specialità quindi per noi non abbiamo la maggior parte del tempo gli elementi per dire con certezza chi ha bombardato nel caso del bombardamento dell'ospedale di Kunduz in Afghanistan l'esercito americano ha riconosciuto di essere stato colpevole di questo bombardamento presentandolo come una catena di errori al loro interno quindi lì per noi quando il colpevole riconosce aver bombardato lì possiamo individuare le persone le parti dei conflitti che sono responsabili nel caso della Siria è molto più difficile ci sono dei combattimenti intensi ci sono delle linee di fronte all'interno delle città ci sono delle linee di fronte che cambiano e quindi lì anche attraverso gli progetti che supportiamo e quindi gli ospedali che supportiamo non è sempre possibile di dire chi ha bombardato lo stesso per il Yemen però ci sono come l'abbiamo detto nel discorso al Consiglio di Sicurezza la settimana scorsa diversi membri del Consiglio di Sicurezza quindi gli Stati Uniti Russia e altri paesi collaborano e partecipano a coalizioni da una parte o dall'altra quindi quelli che supportano il regime siriano quelli che supportano anche l'opposizione siriana che sono stati in un certo modo coinvolti dal fatto che supportano o bombardano nel paese secondo lei gli ospedali che vengono bombardati e da voi sostenuti sono ben segnalati quindi individuabili anche da aerei cioè si vede che quello è un ospedale sì per dare l'esempio di Kunduz per esempio è una pratica classica che facciamo quando gestiamo direttamente un ospedale in conflitti comunichiamo le coordinate GPS quindi tutti gli attori non solo l'esercito americano in questo caso ma anche le autorità afghane e anche i talebani l'opposizione afghane avevano le coordinate precise dell'ospedale Kunduz per fare in modo che non venga rispettato venga risparmiato e non venga mirato purtroppo nonostante quella comunicazione del GPS delle coordinate è stato un bombardamento dell'ospedale in altri casi abbiamo comunque in ogni caso in realtà sul tetto dell'ospedale anche una croce rossa o un logo di medici senza frontiere rosso per individuare anche a vista il fatto che la struttura sia una struttura sanitaria io credo che comunque se si facessero delle indagini il personale esperto sarebbe in grado di conoscere da che parte viene il bombardamento e che tipo di bombe sono insomma non sarebbe credo difficile anche diciamo con l'utilizzo di satelliti o altro ma voglio dire potrebbe essere un fuoco amico che poi magari induce a pensare a un fuoco cosiddetto nemico a distruggere gli ospedali secondo lei? Non so se possiamo parlare di fuoco amico nemico perché noi in ogni conflitto lavoriamo e garantiamo il nostro accesso alle popolazioni mantenendo una strettissima neutralità vuol dire che parliamo sia con gli eserciti americani che con i gruppi di opposizione gruppi armati in tutti questi paesi parlo della Siria dell'Afghanistan e gli altri quindi con questa neutralità non possiamo comunque distinguire fra nemico e amico detto questo non siamo degli esperti militari quindi comunque laddove abbiamo accesso non possiamo e non facciamo delle investigazioni militare su questo per questo chiediamo alle autorità competenti di farlo autorità in parziale indipendenti di farlo perché proprio per esempio riprendo gli attacchi con arme chimiche nella periferia di Damasco nel 2013 Medici Senza Frontiere supportava degli ospedali che hanno ricevuto centinaia migliaia di persone colpite dalle agenti chimici l'abbiamo denunciato abbiamo fatto una denuncia internazionale forte però non abbiamo potuto con certezza dire chi fosse responsabile questo sono stati degli investigatori indipendenti delle Nazioni Unite che sono andati a investigare è certo chi viene lì con gli aerei o manda i droni non credo che abbia anche delle truppe da proteggere cioè la vostra azione prevalentemente si è indirizzata verso le popolazioni locali e quindi anche le guerriglie locali non credo che il vostro intervento venga eseguito anche nei confronti di chi con gli aerei bombarda a meno che non cada qualche aereo scusi non ho capito la domanda cioè volevo dire il vostro intervento sul territorio non può che essere mirato nei confronti degli autottoni o comunque quelli che girano lì nei dintorni non credo che può essere mirato nei confronti degli aerei o di chi sorvola la zona credo che non abbia bisogno molto del vostro intervento in realtà se prendo il caso dello Yemen e dell'Afghanistan i nostri pazienti sono sia popolazioni del luogo che sono state ferite nel conflitto bambini che sono stati gravamente feriti dalle mine giocando per strada sono anche dei combattenti dell'esercito afgano o dell'opposizione afghana di tutte le parti che sono stati feriti e a partire dal momento che sono feriti non sono più combattenti secondo il diritto internazionale umanitario è una regola molto un principio molto importante loro vengono e devono essere assistiti medicalmente in ospedale e essere protetti perché a partire dal momento anche le parti che combattono quindi anche potenzialmente anche le parti che bombardano se un combattente è ferito diventa un non è più un combattente diventa un paziente e c'è anche il dovere degli operatori sanitari operatori umanitari sul campo un dovere un'etica medica e un imperativo umanitario che obbliga medici senza frontiere altri pochi che operano in questi contesti a portare assistenza medica e a salvare la vita Dottor Dumont nei vostri ospedali o comunque negli ospedali da voi sostenuti naturalmente si riversa la popolazione civile del luogo e molto spesso come le diceva questi attacchi vengono giustificati come degli errori altrettanto si insinua che all'interno degli stessi ospedali possano trovare rifugio dei terroristi o comunque persone che sono lì a sostenere l'azione militare giustamente lei dice nel momento in cui vi è un ferito non smette di essere un operatore di parte ma diventa semplicemente un paziente al di là di queste considerazioni avete mai riscontrato all'interno dei vostri ospedali o degli ospedali da voi sostenuti la presenza effettiva di terroristi una presenza che possa giustificare questi attacchi direi di no per esempio su Kunduz c'è stato un'accusa penso del governo afghano su questo e in realtà sia le informazioni dell'investigazione di medici senza frontiere sia quelle dell'esercito americano stesso hanno concluso dimostrato che non c'erano stati dei cosiddetti terroristi combattimenti a partire dall'ospedale neanche presenza di armi quindi questo comunque non l'abbiamo riscontrato però volevo dire che questi attacchi contro le strutture mediche vanno ben oltre i morti feriti del momento in realtà quando si colpisce una struttura medica c'è tutta l'assistenza medica di routine di emergenza tutta l'assistenza medica di una popolazione a volte centinaia di miglia di persone non c'è più e quindi anche per un parto anche per trattamento di malattie croniche l'accesso alle cure semplicemente non c'è più quindi la vita diventa impossibile per dare esempio un po' altro di quello dell'Afghanistan e della Siria in Yemen a ottobre dell'anno scorso c'è stato anche un ospedale a Aidan che è stato colpito dalla coalizione dell'Arabia Saudita guidata dall'Arabia Saudita e lì l'ospedale copriva almeno 200.000 persone quindi da quando è stato colpito l'ospedale 200.000 persone sono rimaste senza cure mediche e salvavite vi lascio immaginare fare il paragone con una città italiana di una certa grandezza 200.000 persone non è poco certo anche perché poi ripristinare l'assistenza sanitaria è difficile se non impossibile soprattutto in territori così difficili come quello afgano quello siriano anche per un fatto geologico il territorio è difficile da raggiungere è difficile da foraggiare da sostenere quindi riuscite poi a ripristinare l'assistenza sanitaria laddove si è assistito ad attacchi e a bombardamenti o questi territori poi rimangono assolutamente privi di assistenza nel caso di Kunduz in Afghanistan non siamo ancora tornati non abbiamo ancora le garanzie prima di tutto la struttura è distrutta ma non abbiamo ancora le garanzie per ritornare a lavorarci però in Afghanistan l'Afghanistan rimane uno dei paesi in cui lavoriamo di più abbiamo dei programmi in Afghanistan tra i più importanti di Medici di Sesta Frontiere continuiamo a lavorare a Kabul in due ospedali a Khost la Shkarga quindi cinque progetti di ospedali continuano in altri casi dipende la struttura ci sono altri casi in altri paesi come penso in Yemen o in Siria gli ospedali sono stati ripetutamente colpiti quindi vuole dire che fra due attacchi è stato possibile ricostruire e renderlo operativo di nuovo però dipende dal livello della distruzione ovviamente certo sì io credo che il vostro impegno sia profuso prevalentemente nei confronti di diciamo di lesioni acute credo che voi non abbiate tempo né possibilità di curare i cronici voglio dire i vostri sono interventi che vengono eseguiti nei confronti di gente che viene diciamo colpita da bombe da mutilazioni o sbaglio dipende dal paese ma in realtà l'assistenza medicale in Afghanistan la maggior parte una grande parte degli interventi medici sono i parti quindi le nascità in certi in certi contesti perché la vita continua nella guerra quindi le persone comunque se hanno complicazioni durante il parto devono avere un intervento devono essere ricoverate in certi ospedali abbiamo più di mille mille nascità di bambini di bimbi al mese e questo è in mezzo a un paese colpito dal conflitto quindi non si tratta solo di curare le ferite ci sono anche siccome la vita continua ci sono anche gli accidenti stradali però se non ci sono le cure di secondo livello di ospedale può diventare una catastrofe perché ovviamente si può immaginare che si deve cercare delle cure mediche in ospedale in altri paesi come durante la guerra nella guerra in Siria si deve immaginare che tutte le persone che hanno il diabete per esempio che hanno bisogno di farmaci di insuline in modo regolare fin quando tutto il paese è al collasso le farmacie sono state bombardate i medicini i farmaci non sono più prodotti o non arrivano più nel paese queste persone rimangono senza cure e malattie croniche possono diventare letali quindi dobbiamo intervenire anche lì in realtà a volte non ci si immagina che lavoriamo su questo ma spesso è uno dei bisogni medico-umanitari più importanti oltre a trattare e curare le ferite anche garantire continuamente di cure per le persone che hanno una malattia cronica Dottor Dimon voi siete impegnati su diversi fronti ce n'è uno particolarmente vicino all'Italia nel quale a quanto pare il nostro governo ha anche deciso un intervento in accordo diciamo così con gli Stati Uniti d'America parlo della Libia in Libia ci sono ospedali chiusi o con poche risorse o che è difficile da sostenere qual è la situazione al momento perché come lei giustamente diceva poc'anzi il flusso migratorio che tutti questi conflitti in Medio Oriente non provoca si vedrà sicuramente ingigantito sarà sicuramente accentuato nel momento in cui dovesse scoppiare un conflitto così come noi lo conosciamo anche in Libia cosa ci può dire della situazione in quel paese al momento? la situazione direi è caotica la situazione prima di tutto di sicurezza è molto difficile noi fortunatamente siamo riusciti a mantenere una presenza a continuare dei progetti in diversi posti da Benghazi a Misrata a Suar in diversi posti del paese e i bisogni humanitari sono talmente grandi che la nostra azione non basta e proviamo a aumentare il nostro impegno per il momento la situazione come lo diceva è una situazione di violenza di caos di ospedali maternità strutture sanitarie che sono state chiuse a causa dell'insicurezza ma anche a causa della fuga di infermieri stranieri la Libia in realtà funziona il sistema sanitario funziona con tanti infermieri straniere delle Filippine Tunisia Egitto e quindi queste persone a causa dell'insicurezza dell'instabilità e del conflitto spesso sono andati via e quindi è difficile noi proviamo a coprire questi bucchi e aiutare le strutture sanitarie a funzionare perché questo è il primo bisogno ci deve essere un sistema sanitario che funziona perché come dicevo la vita continua la popolazione ha ancora più bisogno di assistenza e noi siamo lì per questo ma ripeto con una situazione di sicurezza molto difficile e poi dalla Libia ci sono anche i migranti o i rifugiati che spesso o dalla Siria o dall'Africa subsaharian verso l'Europa dove cercano salvezza protezione assistenza passano attraverso la Libia e lì spesso sappiamo che ci sono delle violenze persone che sono detenute violentate torturate prima di poter partire sui barconi sui gommoni attraverso il Mediterraneo quindi la situazione delle persone migranti e rifugiati in Libia è terribile lo sappiamo perché proviamo a lavorare con loro in Libia ma anche attraverso le testimonianze delle persone che soccorriamo nel Mediterraneo con le tre navi di ricerca di soccorso di mare di medici senza frontiere queste persone ci dicono ci parlano della situazione in Libia una situazione terribile in realtà le vostre organizzazioni pur se sanitarie costituiscono secondo lei un tentativo di inizio di un piccolo ecosistema attorno al quale raggruppare le poche forze che ancora credono nella ricostruzione di un sistema di vita e quindi anche diciamo una tutela che dovrebbero esercitare le poche forze che residono sul territorio insomma è un piccolo tentativo di rinascita secondo lei allora se ho capito bene io vorrei vorrei dire se un ospedale per esempio è una situazione di crisi o di conflitto di violenza un ospedale è anche un posto sicuro dovrebbe essere un posto dove è un ultimo spazio di umanità in una situazione di caos disumanizzato diciamo laddove non c'è più umanità gli ospedali almeno storicamente sono posti dove si può andare a cercare assistenza cure anche sostegno psicologico in tanti paesi in conflitto in instabilità quando ci sono combattimenti le persone vengono all'ospedale vengono anche nel giardino e nell'ospedale per cercare protezione quindi sì questi spazi sono spazi di umanità e nonostante il fatto che vediamo spesso tanti feriti tante cose orribili tanti morti anche sono anche i posti dove ci sono le nascità dove ci sono anche momenti positivi penso che parlando con i miei colleghi sono i momenti che ci consentono a trovare le forze di continuare a lavorare perché anche in un ospedale ci sono anche delle situazioni molto positive di vita e di speranza dottor un'ultima domanda perché sappiamo che anzi forse abbiamo anche approfittato già troppo del suo tempo ma lei poc'anzi parlava delle politiche di chiusura rispetto ai fenomeni migratori in Europa quale sarebbe secondo lei la politica corretta da adottare di fronte a situazioni di emergenza umanitaria come queste per noi quello che chiediamo è sicuramente la creazione di canali legali e sicuri per le persone che cercano a raggiungere protezione o assistenza in Europa o in Europa o in altri continenti ma l'Europa devo dire oggi è diventato la rotta migratoria più mortale più letale più pericolosa al mondo solo l'anno scorso quasi 4.000 persone sono morti provando a raggiungere l'Europa sia nel Mediterraneo che nelle isole greche o nella Turchia quindi questo succede perché non ci sono canali sicuri quindi le persone di fronte a un muro un filo spinato una nave militare un confine chiuso non hanno altro scelta che andare a cercare un altro modo di cercare protezione e questo è molto importante notare che siamo di fronte a un fenomeno globale che l'Europa comunque accoglie pochissime persone rispetto al numero totale di persone che sono costrette a fuggire ho parlato di 60 milioni di persone prima l'Europa l'anno scorso penso un milione di persone sono arrivate in Europa quindi rimane una minoranza rispetto a per esempio la Turchia che oggi ha quasi 3 milioni di persone in Turchia quindi importante dire che il numero di persone che cercano protezione in Europa non è per niente un assedio o un'invasione come a volte sentiamo il linguaggio nei discorsi di certe persone ma in realtà sono persone che con via legali sicure potrebbero trovare protezione senza dover rischiare la vita attraversando un mare su un gommone o rischiando la vita sulla rotta balcanica o vivendo in condizioni inaccettabili in campi in tende in campi in condizioni inaccettabili grazie grazie dottor Dumont per aver partecipato alla nostra trasmissione speriamo di poterla riavere come ospite naturalmente in futuro perché sarebbe importante seguire la vostra campagna che ricordiamo agli ascoltatori note target una campagna che serve proprio a impedire che i presidi sanitari o comunque gli obiettivi sensibili quali sono gli ospedali i mercati insomma si smetta di considerare la vita di un essere umano senza nessun valore solo perché afgano siriano libico iemenita quello che vogliamo la vita umana è comunque per noi perlomeno ancora un valore e va tutelata grazie al dottor Dumont buon lavoro grazie grazie a voi grazie al lavoro di Medici Senza Frontiere e a presto naturalmente grazie buonasera grazie arrivederci arrivederci bene Rosario se non ho letto male dovremmo avere in linea il nostro Marco Grilli dovrebbe essere con noi lo sto già chiamando lo sto già 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 lo sto chiamando e vabbè ma noi sappiamo che tu sei un grande regista sono grosso più che grande eh dai le dimensioni non contano conta la sostanza solo che vediamo se abbiamo Marco sto chiamando voi andate avanti mentre attenzione vi chiamo dalla redazione di Venezia se mi sentite sì ma abbiamo un aggiornamento molto breve dunque Camorra latitante da due anni tra i cento più pericolosi d'Italia Umberto Accurso è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli in un appartamento nell'Interland a nord del capoluogo Campano lui ha 23 anni è ritenuto elemento di spicco della cosca della Vanella Grassi dunque più informazioni nell'edizione di Osservatorio Antimafia alle 19.20 vi restituisco la linea grazie Massimo e ne approfittiamo per ricordare ai nostri ascoltatori l'appuntamento alle 22 con Osservatorio Antimafia e non so se abbiamo in linea Marco sì sì Marco c'è Marco c'è ecco ciao Marco buonasera buonasera allora Marco noi abbiamo avuto modo di parlare questa sera con François Dumont il direttore della comunicazione di Medici Senza Frontiere e l'ultima domanda che le abbiamo rivolto riguardava naturalmente la situazione in Libia che pare si stia facendo sempre più complicata ci ha riferito di grandi disordini di una situazione davvero caotica senza alcun tipo di controllo sappiamo anche che è sempre più vicino l'impegno di se non erro Marco correggimi partiamo con 50 uomini Marco Marco Rosario c'è qualche problema di comunicazione no Marco lo vedo è collegato con noi ma non forse si sta ascoltando sulla web radio non su skype Marco se ci sei batti un colpo temo abbia qualche problema di carattere tecnico più che altro probabilmente ha un problema col microfono Marco non ti sentiamo bene però mi sento perfettamente non ho problemi di sorta la linea c'è ora ti sentiamo sì sì ok Rosario non so tu ma noi non sentiamo nulla praticamente no è come se arrivasse a scatti sì infatti non so se è un problema di linea vogliamo magari provare a richiamarlo Rosario vediamo un po' sì adesso Marco ti richiamo evidentemente c'è un problema sulla linea e comunque ecco approfitto di questi pochi secondi per annunciare preannunciare ai nostri ascoltatori che alle 22 durante la trasmissione osservatorio antimafia sempre qui su Radio Sayuz naturalmente ci saranno due ospiti in trasmissione avremo Giorgio Bongiovanni il direttore di antimafia 2000 e Francesco Lorusso le polemiche che si sono sviluppate in questi giorni sull'antimafia ci hanno spinti comunque a chiedere la presenza del direttore naturalmente ma l'invito di questo ragazzo di quest'uomo Francesco Lorusso che vive in un paese qui in provincia di Bari aveva un'attività commerciale era proprietario di un bar con suo padre questo bar per due volte è stato fatto esplodere dalla criminalità locale a causa di questo il padre di Francesco si è suicidato e il 18 maggio quindi tra una settimana precisa il locale verrà nuovamente inaugurato Francesco Lorusso ha avuto il coraggio e la forza di superare la morte la tragica morte del padre creando ancora una possibilità nella sua vita riaprendo il bar nonostante tutto e facendo di più diventerà un presidio antimafia quindi questo è un modo di dire di dimostrare come l'antimafia non venga fatta solo con le chiacchiere ma soprattutto con i fatti fatti concreti come questo qui Marco proviamo un po' a vedere se riusciamo a sentirti ora mi sentite? ecco adesso si finalmente non so cosa si è cambiato rispetto a prima ma non importa l'importante è che adesso abbiamo si sarà stato un problema di linea Marco nulla di più a meno che non sia qualche oscura ecco appunto ecco la forza oscura questa è la forza oscura che non ci consente di ascoltarti questa sera Marco non so ci proviamo vediamo un po' se riusciamo ad essere noi più tenaci ci senti ci siamo lasciati prima con la tua domanda la quale io ho risposto con una controdomanda cioè stiamo parlando di cifre ufficiali? possiamo parlare di cifre ufficiali ma possiamo parlare soprattutto di cifre ufficiose e di quelle che sono le reali situazioni non quelle che vengono raccontate allora vi citerò Rosario posso farci niente arriva proprio così arriva e allora sarà un problema di linea questo perché noi purtroppo non sentiamo o è un problema di microfono se più il problema di microfono può darsi che è di linea perché la linea perché lui si sente bene quindi e difatti adesso mi sentite? forse sì Marco vediamo un po' ho disattivato il microfono non neanche ora nemmeno no prova a parlare senza cavallarci prova a parlare io sono pronto e disponibile non so se voi mi sentiate vai tranquillo adesso Marco va bene allora quanto pare abbiamo trovato rimedio alla situazione speriamo dicevo stavo dando un'occhiata a non venivano e niente Rosario non so cosa pensare non riesco a capire cosa possa essere successo è peccato perché insomma è certo che è un peccato un telefono proviamo a chiamarlo sul fisso magari Marco ecco Rosario magari prova a chiamarlo sul fisso vediamo un po' se almeno in questo modo riusciamo sì un attimo soltanto che lo sgancio come Skype un attimo sì sì perché sicuramente Marco può darci delle informazioni certo interessanti insomma quello che noi siamo siamo chiamati a fare è un impegno gravoso difficile quantomeno inopportuno nel momento che la nostra stessa nazione sta vivendo non sarebbe il caso eccolo qua sto chiamandolo vediamo se Marco ecco ti Marco a quanto pare era vero lo spot della della quella cosa lì ancora il telefono la torno c'è pare proprio di sì alla fine in zona Cesarini ci salva sempre voglio dire mi fa morire il fatto che siamo tutti dotati di super tecnologie alla fine tocca parlare con il telefono ma comunque allora stavi dando mercato sì stavo dando mercato a diverse cosucce perché la mia controdomanda stiamo parlando di cifre ufficiali ufficiose perché tecnicamente noi non dovremmo neanche essere lì ancora e invece siamo già lì da un bel pezzo e stiamo anche facendo le cosine a quanto pare sotto banco quindi quando mi dicono che spediamo 50 soldati mi viene da ridere perché stando a quello che dice qui il secolo d'Italia per esempio uno tra i tanti quotidiani che si possono consultare anche online la missione italiana in Libia prevede anche l'addestramento di reparti locali e al momento si sta prontando un dispiegamento di 400 uomini al massimo una parte composta da carabinieri che temono una missione troppo leggera come copertura di fuoco ora prima domanda io sono quelle delle domande come sapete se si parla di 50 uomini e stiamo già dicendo 400 uomini al massimo vuol dire che c'è già qualcosa che non quadra perché siamo 5 per 8 40 siamo 8 volte tanto per non parlare del fatto che noi comunque anche con i servizi di intelligence e mi fa ridere che effettivamente c'è una contraddizione interna di quando si parla di intelligence e guerra ma comunque siamo stati da un bel pezzo a complottare con gli Stati Uniti che sono anche loro lì da un bel pezzo a preparare il terreno quindi già il fatto che si parli di 50 unità di spiegamento ufficiale italiano è un dato che non sta in piedi perché non mandi 50 persone sì forse per l'addestramento ancora ancora le parti locali possono andare bene ma per sostenere azioni di guerra o di guerriglia potrebbero andare bene per una missione in territorio italiano contro qualche malvivente ma in territorio straniero per di più in una zona di guerra la vede un po' difficile onestamente per i canoni che sono quelli delle missioni militari a meno che non si tratti di missioni super segrete allora i quantitativi di uomini che vengono spostati sono sempre limitatissimi perché chiaramente devono fare delle azioni di guerriglia tipo mordi e fuggi quindi si va sul territorio si colpisce e si torna via il prima possibile con bottini più o meno identificabili in vittime piuttosto che in diciamo materiali che devono essere o persone che devono essere recuperate questo ci dice la tecnica di guerriglia quindi se proviamo di quindi un intervento armato e costante sul territorio e 50 unità sono decisamente troppo scarse e non giustificano neanche francamente il disturbo di una forza armata quindi non riesco a capire perché qualcuno continua a prenderci in giro perché io ho notato che soprattutto ultimamente l'intelligenza della gente si sta un attimino risvegliando e comincia a farsi due punti in tasca anche se devo dire la verità stanti risultati permettetemi il breve riferimento del referendum sulle trivelazioni diciamo rivelano che le coscienze sono ancora abbastanza dormienti non si sono ancora resi conto gli italiani che se vogliono ottenere qualcosa devono esporsi devono prendere in mano la situazione per cui quando leggo anche i dati politici per quanto riguarda l'astensionismo vicino a quote tra il 37 e il 39% comunque attorno al 40% vuol dire che oltre ad avere sfiducia nella politica sfiducia di comodo per la maggior parte delle persone tra le altre cose gli italiani non muovono il sederino dalla sedia quindi non sono molto meglio i politici che chiusciamo di occupare le sedie e non liberarle per lasciare posto a chi effettivamente ha voglia di fare scusate il breve riferimento no ci mancherebbe è un riferimento comunque opportuno perché gli organi di informazione istituzionali ci vendono questo nostro intervento a tutela dei nostri stessi interessi in quanto è necessario creare comunque una difesa rispetto alle attività economiche nelle quali anche noi siamo coinvolti ma di lì poi ad un coinvolgimento di altro genere di altra natura credo che il passo sia molto molto breve se teniamo conto del fatto che con buona pazza dell'italiano medio il Presidente del Consiglio dei Ministri si è peritato di comunicare i dati delle vendite dal nostro settore militare o del settore armamenti italiano che si tratti di armi vere e proprie piuttosto che munizioni forniture di altro genere o addirittura di servizi di tecnologia integrata con finalità militari perché sappiamo fin meccanica o Leonardo dove si voglia fondamentalmente non si occupa semplicemente di parti di aerei intese come superfici più o meno visibili si occupa anche proprio di tecnologia anche a livello di per esempio Selex sistemi integrati per cui stiamo parlando di radar stiamo parlando di sistemi di avioniche stiamo parlando di un sacco di altri tipi di fotettura e il bilancio di vendita delle nostre imprese italiane del debite alla costruzione degli armamenti è passato da 2,9 miliardi di Euro di commesse a 8,2 miliardi di Euro di commesse nel giro dell'ultimo anno dove tra le altre cose fatalità in diciamo gli alleati chiamiamoli così gli acquirenti medi orientali la stanno facendo da padroni perché stanno acquisendo grossissime quote di mercato allora prego Marco no volevo sapere anzi volevo chiederti tu sei al corrente che probabilmente l'invasione della Libia che poi è stata guidata dai francesi quando hanno deposto il loro Gheddafi sia stata determinata dal fatto che lo stesso Gheddafi probabilmente voleva creare una banca con la tutela dell'oro e quindi contrastare tutto il sistema bancario occidentale il motivo per cui è stato attaccato si dice che sia stato anche questo non solo come avevo già accennato mi pare nel corso dell'ultima trasmissione alla quale avevo avuto il piacere di partecipare sembra che il caro colonnello Mohamed Gheddafi prima di lasciare questa valle di lacrime ad opera non tanto dei francesi ma di altri sostanzialmente che sempre dietro a tutto stanno la guida affidata ai francesi ma dietro ci sono altri sì sì l'autista era francese ma il proprietario dell'automobile era del mezzo di commozione era di altra nazionalità sicuramente tanto c'è che avevo commentato che questo aveva cercato l'aiuto o il contatto con Israele fatalità si parla di banche si parla di valori mobiliari o comunque di oro e quindi di diciamo della che posso dire io del metallo prezioso per eccellenza nonché del metallo che costituisce le riserve per eccellenza dei vari paesi all'interno del globo terracqueo e poi è finito come è finito allora tu vai a chiedere aiuto agli israeliani che sono soci in affari e dimisfatti degli statunitensi per cercare di fare le scarpe agli statunitensi significa praticamente suicidarsi infatti che cosa è avvenuto fatalità dopo l'ha tirato giù dalle spese quindi vuol dire che il caro colonnello probabilmente ha giocato male alle sue carte o si è appoggiato agli alleati sbagliati quantomeno certo insomma questo colonnello comunque qualcuno ha voluto toglierlo evidentemente dava fastidio ma non dava fastidio a noi agli italiani credo che non dava fastidio tranne qualche cosa che vorrebbe indietro qualche tavolo qualche residuo bellico credo che a noi non dava fastidio considerato che noi sui carburanti in particolare sulla benzina stiamo pagando ancora le campagne da bissini direi che prego no dico appunto è questo il discorso abbiamo ancora questa tassazione ridicola sì e non solo perché il prezzo di carburanti è gravato praticamente per il 70% da cise imposte di varia natura quindi pensate quanto potremmo pagare noi i carburanti se la smettessimo di finanziare questi quattro Guarafondai mangiapane a tradimento e gli daffi a noi in realtà non è che dà sentire di tanto fastidio dava fastidio a qualcun altro però perché le sue risorse facciano estremamente comodo anche perché la situazione in Libia bene o male nonostante ci fossero oppositori al regime anche all'interno del territorio non necessariamente subillati era abbastanza stabile c'era gente che mangiava beva studiava faceva una vita normalissima senza necessariamente spararsi poi arrivano i francesi e dicono no la situazione non va bene dobbiamo dobbiamo spodestare il inesimo dittatore con buona pace appunto degli amici catomitensi e appunto gli daffi ha capitolato abbastanza velocemente poi adesso in Libia come voi sapete bene facciamo un governo amato dal popolo e voluto dal popolo iperstabile con idee chiare su cosa fare al confronto del quale probabilmente l'ultimo tentativo di Bersani di formare il governo anni fa non molto tempo fa in realtà circa tre anni fa sembrava una situazione di stabilità come dire destinata a durare nel tempo perdonate l'ironia ma è necessaria è in ironia necessaria questi risultati per cui sì sono curioso di vedere dove andremo a parare dirò di più ci sono anche da tenere in conto e prossimamente saranno sempre più cogenti le costrittive le condizioni diciamo di trattativa tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti diciamo i partner storici degli Stati Uniti si sta aggiungendo se preferite tra i partner storici sta emergendo l'Arabia Saudita in questo periodo che non vede l'ora di fare fuori Bashar al-Assad così come sta facendo il disastro in Niene mentre a parentesi cosa della quale non parla praticamente nessuno perché noi sappiamo della Siria sappiamo della Libia sappiamo dell'Afghanistan sappiamo di altre tre o quattro cose in giro ma nessuno parla dello Yemen se non una volta di morte di Papa e lì stanno facendo il disastro a livello di pulizia etnica quasi ne abbiamo parlato poc'anzi con il dottor Diumondin di Medici Senza Frontiere ha citato più volte il loro impegno in Yemen proprio per questa ragione ma Marco ricordiamo agli ascoltatori che tu sei il coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica il laboratorio creato qualche tempo fa da Giulietto Chiesa una delle vostre campagne una delle tante che portate avanti con molto impegno è fuori d'Italia dalla Nato assolutamente sì ecco allora non abbiamo moltissimo tempo e mi rendo conto di porti una domanda che non può essere non può vedere una risposta esaustiva nel giro dei prossimi quattro minuti ma ti chiedo di fare questo piccolo sforzo vogliamo spiegare la ragione per la quale Alternativa e quindi Giulietto Chiesa assieme a tutti voi chiede che l'Italia esca dalla Nato allora senza propri riferimenti storici che richiederebbero di allungare i tempi mettiamola così la Nato si è trasformata nel corso del tempo da alleanza difensiva nata sostanzialmente ai tempi della guerra fredda o ai prodromi della guerra fredda in alleanza offensiva cioè cosa significa che qualunque dei paesi faccia parte della Nato venisse attaccato provocato o minantasse se vogliamo essere più franchi di essere attaccato o minacciato da un paese non facente parte della Nato può invocare automaticamente l'aiuto degli altri appartenenti alla Nato per rispondere militarmente alla presunta o effettiva offesa ok questo significa che per esempio se la Turchia come ormai in parola dovesse a pieno titolo esercitare le proprie pretese nei confronti degli alleati Nato significerebbe che il nostro Erdogan potrebbe chiedere l'aiuto di qualsiasi tra gli alleati Nato per contrastare quelli che sono i suoi nemici più o meno chiaramente individuati o pretestosamente individuati questo per fare un esempio ci sono degli interessantissimi articoli io invito le persone che ci stanno ascoltando andare a leggere gli articoli di Manlio Vinucci che è di una precisione mostruosa ha anche dei dati sempre aggiornati e soprattutto segue con molta attenzione tutta la crescione militare Nato e non soprattutto di parte dei paesi dell'Europa per il loro coinvolgimento nei vari teatri di guerra altro che missioni di pazza e di stabilizzazione che si stanno creando all'interno dell'area medio orientale o nord o sud mediterraneo per capirsi nord africana mettetelo un po' come volete voi poi tra le cose la cosa si sta spostando se avete fatto caso anche guardando la cartina geografica del globo noterete che la macchia sta assumendo dei contorni abbastanza particolari per cui l'Europa si ritrova bene o male circondata da situazioni destabilizzanti e la Russia è pesantemente sotto attacco tra virgolette psicologico se non fosse che il leader della Russia è una persona piuttosto navigata oltre che molto intelligente detto questo la NASA è pericolosa per noi perché rischiamo di entrare in guerra a pieno titolo alla semplice richiesta da parte di uno degli alleati per ragioni che magari neanche ci toccherebbero questa è una cosa profondamente sbagliata perché già la soluzione del conflitto di interessi con una guerra e con una nazione armata è sbagliata di per sé e non voglio fare il pacifista così spicciolo ma è un dato di fatto le controversie non si devono risolvere con le armi si devono risolvere in maniera politica cioè parlando e trovando le soluzioni che vengano condivise è chiaro che ognuno deve fare dei piccoli sacrifici o dei passi indietro ma per poter andare avanti dobbiamo evitare di incorrere negli balli che sono già costati troppe vite a tutte le civiltà coinvolte possiamo fare il caso anche della Shoah possiamo fare il caso anche della prima guerra mondiale possiamo fare il caso di tutte le guerre locali conflitti in Avivoslavia anche quelli erano mossi emotivi pseudo etnici ma c'erano comunque degli interessi nepotentati alle spalle quindi la Stato purtroppo si sta ripetendo non in maniera solo fastidiosa in maniera estremamente pericolosa e involutiva perché stiamo andando veramente verso una guerra nucleare ci sono tutte le premesse Dio non voglia che qualcuno prema pensante e noi ci ritroveremo in mezzo anche se non siamo direttamente interessati proprio perché apparteniamo alla Nato su questo argomento Marco torneremo perché riteniamo sia opportuno un approfondimento e un ulteriore chiarimento per il momento ti ringraziamo naturalmente e invitiamo anche te se vuoi se puoi naturalmente a partecipare alla trasmissione delle 22 ci sarà Giorgio Bongiovanni il direttore di Antimafia 2000 e Francesco Lorusso un coraggioso imprenditore che vive qui nella provincia di Bari vittima della malavita organizzata locale ma ha dimostrato un grandissimo coraggio rimetterà su la sua attività commerciale nonostante sia stata fatta esplodere per due volte proprio da chi da chi vuole imporci un sistema di vita criminale come vedi Marco le cose si verificano nel piccolo ma anche nel grande quindi invitiamo anche te a partecipare alla trasmissione delle 22 per il momento ti ringraziamo e ti diamo sicuramente appuntamento a mercoledì prossimo buon lavoro Marco grazie e buon lavoro a voi anche grazie passiamo rapidamente visto che siamo in ritardo la linea Massimo Bonella per eventuali aggiornamenti si ce n'è uno alle 19.47 ve lo do al volo sono stati recuperati in Ucraina i 17 dipinti di grande valore trafugati la sera del 19 novembre 2015 dal museo di Castelvecchio in provincia di Verona lo ha reso noto il comandante della polizia di frontiera ucraina tra le tele rubate ci sono capolavori di Tintoretto Rubens Martegna e Pisanello i quadri sono stati ritrovati 6 maggio nella regione di Odessa e stavano per essere portati in Moldova ecco sempre da quelle parti le scorribande 19.48 linea che ritorna nuovamente a Bari e tutto per il momento dalla redazione di Venezia grazie a Massimo Bonella responsabile di pianetaoggtv.net da Venezia al quale diamo appuntamento alle 22 grazie a Rosario Moreno alla regia centrale da Treviso grazie a Ugo per la sua assistenza salutiamo il condominio di Radio Science vi ringraziamo vi diamo appuntamento alle 22 se volete altrimenti a vercoledì prossimo sempre alle 18.30 grazie a tutti e buonasera a dopo a dopo vado con la sigla grazie a tutti